Passiamo subito alla successiva relatrice, Silvia Cortese. Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti. Mi sono fatta dare la cuffia da mio figlio per riuscire a parlare senza troppi disturbi. Innanzitutto complimenti perché ho seguito gli interventi finalmente da stamattina, ieri solo a Spot, sono riuscita a collegarmi e state facendo un lavoro meraviglioso. Grazie a te Silvia per esserti unita a noi. Io ho chiesto a Silvia di parlare di un argomento che si sta sviluppando, ancora secondo me stiamo vedendo i primi cenni, e il crowdfunding è affiancato al settore immobiliare. Silvia è un architetto, è appassionata di arte, di comunicazione, di fashion e ha aggiunto anche in tutta questa fila di skills il crowdfunding immobiliare. Quindi lascio la parola a te Silvia e poi ci facciamo una chiacchierata al termine della tua presentazione. Grazie Rosa, molto volentieri. Allora, buongiorno a tutti. Come accennava Rosa, io sono un po' un relatore anomalo rispetto ai relatori che mi hanno preceduto, che erano molto più specializzati sul crowdfunding, che fosse sotto gli aspetti fiscali o sotto gli aspetti proprio di marketing e di procedura. Invece vi vorrei fare vivere un percorso che riguarda tutti noi, cioè come potremmo utilizzare lo strumento del crowdfunding per migliorare la qualità della vita di tutti noi, quindi per migliorare quello che è il nostro territorio. E qui spongo a tutti questa domanda. La rigenerazione del territorio può essere resa sostenibile grazie al crowdfunding? La risposta è certamente sì. E qui vorrei fare con voi una riflessione. Il crowdfunding rappresenta uno strumento al contempo innovativo, ma anche antichissimo, ed è indispensabile ad attivare tutte quelle sinergie che generano un contempo partecipativo. Rende disponibili una parte delle risorse economiche che sono indispensabili all'attivazione di rigenerazione urbana. Scusami se ti interrompo un secondo, ti sentiamo leggermente a scatti, per cui ti chiedo se riesci ad avvicinare magari leggermente il microfono alla bocca o vedere se questo è il problema, speriamo. Ok, mi sentite? Così si avvicino? Adesso decisamente meglio, decisamente meglio. Riparto, torno indietro. Come preferisci, ti sentivamo semplicemente leggermente disturbato, ma poco poco. Perfetto, allora ripartiamo con la domanda. La rigenerazione del territorio può essere resa sostenibile grazie al crowdfunding? La risposta è certamente sì. Dunque, crowdfunding è uno strumento innovativo, ma anche antichissimo, ed è indispensabile non tanto per chiudere un intero processo di trasformazione, un intero budget, ma per generare quelle attività, quelle scintille, che possono poi a loro volta, a cascata, generare dei processi di rigenerazione. E qui mi riferisco a qualcosa che va oltre una start-up fintech o un progetto generico di una start-up innovativa. Proprio parlo di processi di rigenerazione urbana o territoriale, che stanno tanto a cuore in questo nostro periodo in cui è rinata un'attenzione particolare per la sostenibilità. Quindi, seguitemi in questo percorso. Vi vorrei brevemente presentare la New Urban Agenda, che non so se tutti voi conoscono, rifare un accenno ai quattro pilastri della sostenibilità e alle quattro tipologie di crowdfunding, alle criticità del territorio italiano, e ragionare poi da qui sulle imprese sociali e sulla possibilità di crowdfundare le imprese sociali in quello che è il mondo dell'edilizia, dell'immobiliare in genere, in senso lato, per cui non immaginatevi la ristrutturazione di un immobile, e poi un accenno a quelle che sono le normative su questo tema. Quindi, che cos'è innanzitutto la rigenerazione urbana e territoriale? Che cosa intendiamo per chi non fosse del settore? Per noi architetti è automatico, però è un tema che può essere frainteso. La rigenerazione del territorio consiste nell'attivare azioni finalizzate al recupero e alla riqualificazione di spazi ed aree urbane o territoriali edificate già esistenti, che devono essere ripensate per un utilizzo nuovo rispetto a quello originario. Quindi non siamo nel campo del real estate o dell'immobiliare profit, del prendere un prato e costruire un palazzo, per intenderci. Stiamo ragionando sull'esistente, sul miglioramento di quello che già esiste, edificato dall'essere umano e che magari vive in uno stato di abbandono. Quindi questo approccio permette di ridurre e a volte addirittura azzerare il consumo di suolo a tutela della sostenibilità ambientale. E, cosa molto importante per noi sulle riflessioni che andiamo a fare, a livello sociale, non solo ambientale, permette di far rivivere e rinascere degli spazi rigenerati con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e della sfera sociale, economica e ambientale. Quindi a produrre a cascata tutti quegli effetti benefici per la collettività. Non si tratta quindi di prendere un immobile degradato e ristrutturarlo, si tratta proprio di attivare delle azioni rigenerative. Quindi di intervenire su quello che è la nostra vita, quello che coinvolge tutti noi. Quindi siamo fuori dal mondo del concetto finta e che startup innovative, diventriamo nella vita di tutti noi. E qui volevo farvi un accenno alla New Urban Agenda, che ha creato le basi per questi ragionamenti, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti urbani, e sono dei ragionamenti sui quali a volte non si pensa. Le riunioni di Habitat 3 avvengono solitamente ogni 20 anni, quindi quella precedente era stata nel 1996, questa è del 2016 a Quito, in Ecuador, ed è proprio la conferenza delle Nazioni Unite sui temi dell'abitare e dello sviluppo urbano sostenibile. Qui c'è un brevissimo abstract, poi online sul sito appunto della New Urban Agenda trovate tutto il PDF con il riassunto di quello che è stato condiviso a livello mondiale, quindi stiamo parlando delle linee guida che tutto il mondo cerca di creare all'unanimità, proprio per arrivare a dei punti di incontro condivisi per l'ambiente, per quanto riguarda il mondo costruito, che impatta per una percentuale enorme su tutto quello che sono i nostri rifiuti, e tutto quello che è la nostra impronta negativa sull'ambiente, ma anche sulla qualità della vita delle persone. La New Urban Agenda rappresenta infatti la visione condivisa per un futuro migliore e sostenibile, un futuro in cui le persone godano di uguali diritti e abbiano accesso ai benefici e a delle opportunità che le città possono offrire, all'interno delle quali la comunità internazionale riconsideri i sistemi urbani e la forma fisica degli spazi urbani in funzione del raggiungimento di questi obiettivi. Ci troviamo in un'era senza precedenti agli effetti della crescente urbanizzazione e siamo nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che credo tutti ne abbiamo sentito parlare, ma magari nessuno sa che poi vengono portate avanti queste Urban Agenda specifiche sul tema del costruito. C'è stato anche un accordo di Parigi, ci sono molti accordi di inquadramento a livello globale su questo tema, ma il punto cruciale è di comprendere che le città possano rappresentare una sorgente di soluzioni anziché essere la causa delle sfide che il nostro mondo sta affrontando. Quindi trasformiamo il veleno in medicina, ragioniamo al contrario, quello che era vissuto come negativo può avere una valenza positiva. Se ben programmata e gestita, l'urbanizzazione può rappresentare infatti uno strumento molto potente a servizio dello sviluppo sostenibile, sia per i paesi in via di sviluppo che per quelli già sviluppati. Quindi la New Urban Agenda offre proprio una visione diversa, uno spostamento di paradigma in merito alla scienza delle città, definisce quell'enorme standard e quei principi per la progettazione che sono importanti per tutti noi. Quindi la costruzione, lo sviluppo, la gestione e il miglioramento delle aree urbane, incorpora un nuovo riconoscimento della correlazione tra nuova, buona urbanizzazione e sviluppo e sottolinea le connessioni tra buona urbanizzazione e creazione di posti di lavoro. Quindi ha un impatto a cascata sulla qualità della vita delle persone fino a generare posti di lavoro, fino a generare opportunità di sostentamento e miglioramento della qualità della vita. Sono temi che dovrebbero essere inclusi in ogni politica o strategia di rinnovamento urbano. E c'è un altro tema molto importante per cui ho voluto parlarvi di questo, che nel 2050 è previsto che la popolazione urbana mondiale pressoché vada a raddoppiare e renderà pertanto l'urbanizzazione uno dei processi di trasformazione più significativi del XXI secolo. Quindi le popolazioni, le attività economiche, le interazioni sociali e culturali, così come gli impatti ambientali e umanotari, saranno sempre più concentrati nelle città. E questo fenomeno, città grandi o piccole, attenzione, non immaginate solo grandi metropole, è tutto quello che sono i centri urbanizzati, anche piccoli, ad esempio, per quello che riguarda il nostro paese. Così come gli impatti ambientali e umanitari sono sempre più concentrati nelle città e questo fenomeno pone, tra le varie criticità, sfide massive relativamente alla sostenibilità nei settori di housing, infrastrutture, servizi di base, sicurezza alimentare, salute, educazione, lavori dignitosi e uso di risorse naturali. Quindi, e qui abbiamo ovviamente saltato dei pezzi, reindirizzando le modalità attraverso le quali le città e gli insediamenti umani sono progettati, disegnati, finanziati, sviluppati, governati e gestiti, la New Urban Agenda intende fornire un aiuto per porre fine alle problematiche inerenti povertà e fame in tutte le loro forme e dimensioni, ridurre diseguaglianze, raggiungere parità di genere e sostegno all'emancipazione anche per tutte le donne e ragazze al fine di riqualificare il loro vitale contributo allo sviluppo sostenibile, migliorare la salute umana e il benessere, favorire la resilienza, tema molto frequente ultimamente, e progettare l'ambiente. Vi ho fatto questa breve introduzione per portarvi poi a seguire il mio ragionamento. Questo è un brevissimo recap di quelli che sono i quattro pilastri della sostenibilità di cui si parla partendo dalla New Urban Agenda. Quindi la sostenibilità ambientale che tutti conosciamo, vedi Greta Thunberg, quindi quantificare l'impatto sul pianeta, il rispetto degli ecosistemi naturali, animali e vegetali e ragionare prevalentemente sui consumi energetici. Questo nell'edilizia lo vediamo già da anni, a partire da quello che sono state le prime certificazioni energetiche che sono diventate obbligatorie. Però ci sono altri temi, la sostenibilità sociale, quindi l'impatto etico proprio sulla qualità della vita delle persone e soprattutto sulle pari opportunità a livello sociale per tutti. La sostenibilità economica dei progetti, e qui entra in gioco il crowdfunding di cui andremo a parlare, soprattutto legato ai costi di attivazione, a quella scintilla che permette di attivare dei processi di cambiamento e che poi si trascina anche quello che è un supporto istituzionale. E qui entra la sostenibilità istituzionale perché attraverso il crowdfunding si riescono a generare quelle sinergie che fanno proprio dialogare quello che è il settore pubblico, il settore privato, il terzo settore, da voce alla volontà delle persone. Quindi proprio per questo ci riponiamo alla domanda perché in questo ambito possiamo considerare il crowdfunding quale strumento di forte impatto nei processi di rigenerazione urbana e territoriale. Il problema principale è quello della sostenibilità economica, cioè il crowdfunding come prima funzione ha quello di risolvere un problema economico. Quindi ogni progetto, io posso avere il progetto anche più virtuoso, più bello, più meraviglioso del mondo, ma se non c'è una prima dose di sostenibilità economica, una prima equity di partenza, così come si definirebbe in linguaggio un po' più tecnico, qualunque progetto non è realizzabile. Quindi il primo tema da analizzare è la sostenibilità finanziaria. Quindi il crowdfunding rappresenta lo strumento più innovativo per attivare una prima fase di sostenibilità economica e per generare il coinvolgimento e il dialogo di più parti sociali, quindi pubblico, privato, terzo settore, al fine di creare quelle sinergie e collaborazioni indispensabili alla realizzazione dei progetti. E qui sottolineo un attimo il termine innovativo, perché noi sappiamo che il crowdfunding storicamente, soprattutto il crowdfunding in donation, è lo strumento più antico che noi conosciamo per banalmente, per costruire le chiese, le più grandi cattedrali, anche il Duomo di Milano è stato costruito con operazioni di crowdfunding, di donazione da parte della popolazione e dei cittadini, ognuno nella misura della sua disponibilità. Attenzione, per cui può essere una donazione molto piccola, però tante donazioni molto piccole, tante forze unite possono portare a dei grandissimi cambiamenti. Quindi non immaginiamo solo gli unicorni del mondo fintech con i grossi investitori. Proviamo a viverlo, a portare questa cultura nella vita quotidiana di tutti noi, sia che viviamo in città o sia che viviamo in un piccolo borgo. Quindi le quattro tipologie del crowdfunding, ora non mi dislungo molto perché so che sono già state spiegate nell'ambito di questo festival in modo fantastico, però un breve recap per chi magari non fosse presente. Quindi le quattro tipologie di crowdfunding sono la donation, quindi le libere donazioni dalle persone che nascono proprio come la raccolta fondi in parrocchia per realizzare il campetto di calcio o la rete del campetto di calcio, dell'oratorio. Il reward che sono sempre donazioni, ma in cambio c'è un piccolo premio come quando, che ne so, c'è una band musicale che ha bisogno dei fondi per realizzare un album e in cambio offre un premio che può essere un gadget, una t-shirt, un cappellino, piuttosto che addirittura un biglietto per il concerto o la prima copia di un album musicale. Poi ci sono le due forme di crowdfunding più recenti, più innovative che vanno su piattaforma, anche le altre oramai vanno su piattaforma, ma esistevano anche in passato. Il prestito, anche questo storico, perché da sempre ci si fanno prestare i soldi, di solito da parte di istituti finanziari o da parte di parenti quando si è fortunati ad avere dei parenti ricchi, però di base il lending è un prestito, un prestito che va restituito con degli interessi e con una determinata scadenza temporale, quindi se parliamo di progetti sociali di rigenerazione del territorio, il lending ci crea una criticità in quanto poi sono soldi da restituire, o l'equity che significa che viene per ogni progetto costituita una società veicolo e chi investe diventa a tutti gli effetti un socio del capitale di questa società, si chiama inequity perché l'equity è proprio il capitale di partenza, quindi nel momento in cui io investo e divento un socio di equity, io a parte tutti i benefici della detrazione fiscale di cui è già stato parlato prima, per cui non ritorno su questo tema, vengo coinvolto, cioè io società che cedo delle quote del mio capitale non è una semplice donation, non è un semplice crowdfunding civico, è una partecipazione, è un coinvolgimento, io porto a bordo delle persone che credono nel mio progetto e che lo seguiranno, non fanno una semplice sponsorizzazione ma seguiranno il mio progetto nel tempo e potranno essere coinvolte anche in fasi successive, quindi posso andare a realizzare dei progetti anche molto grandi fino davvero alla riqualificazione di un intero borgo perché in equity posso fare delle raccolte fino a 8 milioni, possono essere fatte raccolte successive e soprattutto vado a creare quell'equity di partenza che è quella che mi chiedono poi gli istituti finanziari, le banche, i grossi investitori per credere nel mio progetto e darmi poi quello che è la differenza che a me manca, quindi anche rendo possibile un progetto che prima per persone che non avevano un equity di partenza non era pensabile e qui volevo fare un breve accenno sulla differenza tra crowdfunding e fundraising perché in entrambi i casi perché a volte ho visto che c'è un po' di confusione su questo tema in entrambi i casi cerco di accelerare perché vedo che ho poco tempo c'è un coinvolgimento di persone che vengono coinvolte però nel crowdfunding sono progetti chiusi c'è un progetto specifico viene creata una società specifica per quel progetto e c'è una scadenza temporale con un business plan specifico non pensiamo che sia un business plan profit un business plan che dà più valore a quelli che sono dei valori di tipo sociale o etico c'è un modello di business che non è quello delle campagne di fundraising che raccolgono soldi proprio come modello raccolgono per una finalità benefica come può essere un'associazione umanitaria il WWF per esempio si tratta di progetti singoli andiamo avanti che criticità abbiamo nel territorio italiano perché è molto interessante questo tema per noi a parte il degrado delle città che è comune anche negli altri paesi nel mondo noi abbiamo una caratteristica in Italia che noi non abbiamo solo grandi città abbiamo tantissime piccole città il nostro territorio è distribuito è granulare è antichissimo quindi noi abbiamo interi piccoli comuni borghi con dei valori architettonici di pregio con delle caratteristiche storiche uniche che in altri paesi magari sarebbero valorizzati evidenziati in un modo particolare diventerebbero loro stessi un'attrazione turistica che da noi vengono abbandonati non ci rendiamo conto dei valori che abbiamo perché vengono abbandonati perché c'è una grande mancanza di fondi perché il real estate ha sempre ragionato in termini di profitto e a volte non c'è profitto nel portare sviluppo in questi piccoli borghi quindi ragioniamo in un'ottica di economia circolare anche in quello che è il mondo del real estate del costruito riduciamo il consumo di suolo riduciamo gli sprechi e i rifiuti riutilizziamo l'esistente minimizziamo lo spreco di energia e in questo modo riusciamo ad aiutare il pianeta quindi due bisogni principali su cui mi vorrei focalizzare perché poi sono infiniti questi bisogni è proprio riqualificare l'esistente per ridurre il consumo di suolo e coinvolgere le persone in progetti partecipativi e qui ritorniamo all'equity i progetti di rigenerazione territoriali sono operazioni molto complesse richiedono grandi budget e forme di compartecipazione dei settori pubblico privato e terzo settore perché da soli non ce la si fa le forme di crowdfunding più idonee già utilizzate già conosciute sono quelle del crowdfunding civico pensiamo ai progetti ai bandi reinventing cities se non li conoscete poi su internet trovate tutto non mi dilungo perché non ne abbiamo il tempo comunque sostanzialmente il crowdfunding civico prevede raccolte in donation da parte dei cittadini una volta che il progetto raggiunge il budget l'istituzione la fondazione gli enti intervengono e chiudono quel budget e portano a conclusione quel progetto però la normativa recente ci permette di crowdfundare in equity anche le imprese sociali e questo molti non lo sanno perché sono normative molto recenti quindi lo stesso crowdfunding in equity che si fa per una startup innovativa o per una PMI si può fare per una SRL che è un'impresa sociale quello che un tempo erano le cooperative che a tutti gli effetti può avere un business plan e può ragionare su determinati parametri molto simili a quelli che sono le imprese vere e proprie cos'è la differenza? che il vero profitto non è un profitto di tipo economico ma è un profitto di tipo sociale di impatto sociale e a volte anche ambientale qui c'è la definizione di quello che è l'impresa sociale proprio dal codice civile andiamo oltre cosa possono fare le imprese sociali? esercitano in via stabile e principale quindi deve essere l'attività prevalente una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche di utilità sociale si considerano di interesse generale se volte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio alcuni esempi interventi e servizi per l'assistenza educazione istruzione formazione professionale poi le slide le avete quindi potete andare a vedere tutto il dettaglio questo è preso dalla normativa ricerca scientifica ma anche tutti quegli eventi culturali che adesso hanno sofferto con la pandemia per cui radiodisfusione carattere comunitario attività turistiche servizi strumentali alle imprese sociali o del terzo settore ma non immaginiamo solo il settore sanitario immaginiamo tutto quello che può servire a noi e che ognuna di queste attività è inserita all'interno di uno spazio costruito di un edificio quindi lì entra in gioco il discorso del real estate quindi tutto quello che è il mondo dell'educazione dell'assistenza dei servizi finalizzati alla persona al reinserimento del mercato del lavoro alloggi sociali e soprattutto sport organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche censimento delle istituzioni no profit sono tantissime 350.000 passa in Italia questo l'articolo 50 qui in quest che dice appunto che è possibile sui portali vigilati conso quindi portali di equiti procedere con raccolta di capitali per piccole e medie imprese e per imprese sociali e lo schema di come funziona quindi c'è un sito di crowdfunding che permette a un ente del terzo settore interessato a svolgere un'attività imprenditoriale con valenza sociale e alla popolazione che vuole contribuire vuole sostenere questa attività di dialogare tra loro e portare avanti delle attività per il beneficio comune che coinvolgano anche le istituzioni che poi entrano in merito magari cedendo degli immobili in disuso nel quale questa attività entra e si occupa poi della gestione qui entra il tema importantissimo dei contratti di partecipazione pubblico privato della green economy della dichiarazione non finanziaria della finanza sostenibile per cui effettivamente esistono anche dei benefici fiscali e degli obblighi per alcune corpore già grosse di sostenere una crescita sostenibile e di fare anche delle dichiarazioni insieme al bilancio economico di quello che è l'impatto environmental social governance quindi ritorniamo su fattori ambientali sociali e di governance è un esempio di come tutte le regioni portino avanti poi delle leggi che mirano appunto a ridurre il consumo di suolo e a sostenere queste operazioni di rigenerazione anche proprio con dei benefici sulla riduzione degli oneri di costruzione o sugli aumenti delle volunettrie in finale vi faccio vedere alcune semplici esempi di alcune immagini di come si potrebbe ragionare su esempi di agriturismo e turismo sostenibile banalmente per riqualificare vecchi casali abbandonati o vecchi borghi e riportare vita o quello questo era l'albero della vita dell'expo quello che si può fare anche a livello di eventi sociali e culturali qui mi fermo questo era l'abstract della mia presentazione che poi trovate e sono fuori tempo limite quindi ringrazio tutti e se avete bisogno mi potete poi contattare davvero grazie a tutti adesso non so se ho ancora a disposizione qualche minuto se ci sono delle domande buongiorno Rosa sono arrivata un po' lunga mi scuso ma era un tema complicato non si è arrivata un po' lunga quasi qualche minuto devi anche ora come dire parlarci di qualche altro punto perché sono le 10 e 39 perfetto l'altra insomma nostra ospite entrerà alle 10 e 50 perfetto allora abbiamo un pochino di tempo ancora se ci sono delle domande o se ci sono magari degli esempi di cui vogliamo parlare dimmi tu se sono c'è una domanda ecco perfetto di Giovanni ho sentito l'architetto accennare al fatto che sono state distribuite le slide che sono state illustrate come si richiedono ah ok è per te la domanda è per me infatti allora puoi scrivermi a rosa.porro chiocciolo uniba.it trovi anche il mio indirizzo di posta elettronica su uniba sull'università dove lavoro e ti saranno inviati chiaramente se Silvia vabbè l'ha già detto ci dà l'autorizzazione della condivisione certamente certamente ok Silvia invece io ti ho interrotto tu ci volevi fare qualche esempio concreto o sul ti ascoltiamo allora vorrei parlarvi di quello che secondo me è il settore che è stato più penalizzato durante questa pandemia tra tanti perché purtroppo siamo stati in tanti a soffrire ma che tutto il mondo della musica dello spettacolo del teatro degli eventi dal vivo infatti noi stiamo facendo questo evento online invece sarebbe bello poterci incontrare poterci stringere la mano e spero davvero che l'anno venturo sarà possibile quindi diciamo che questo connubio tra mondo reale e incontri reali e tecnologia è un po' quello che si è visto anche su Clubhouse in cui si stanno creando delle relazioni grazie proprio alla voce che crea questo contatto quindi mi farebbe piacere fare un esempio proprio sul mondo della musica mettiamo che ci sia la volontà di realizzare un festival un evento una start up innovativa legata al mondo della musica ed è un settore che magari in questo momento ha sofferto o non ha grosse possibilità di pensare di acquistare un casale e di organizzare una scuola di musica piuttosto che un progetto con dei budget importanti si fa sempre fatica lo sappiamo anche noi a raccogliere poi le sponsorizzazioni e gli investitori che sostengono soprattutto in quello che è arte e cultura ecco in quel caso si può ragionare sulle imprese sociali perché un'impresa sociale può essere anche un'impresa culturale può essere una radio può essere un'impresa nel mondo dello spettacolo potrebbe essere addirittura questo festival si costituisce sotto forma di impresa sociale quindi diventa tutti gli effetti una srl perché una spa non mi sembra il caso e a quel punto oltre ad attingere a tutti quelli che sono dei bandi specifici e dei fondi dedicati anche dalla comunità europea e che poi passano attraverso le regioni e i comuni però di base sono direttive che arrivano prima dalla comunità europea poi a livello nazionale coinvolgere oltre alla popolazione che ha dei benefici in questo festival ma non con donazioni proprio creando una raccolta iniquiti per cui creando una società veicolo che poi porta avanti questa iniziativa nel tempo in cui le persone vengono coinvolte come soci anche con una quota minima minuscola e coinvolgendo poi quei budget di invece quelle corporate grosse che magari non vedrebbero queste piccole realtà perché entrano in obbligo di devolvere una parte dei loro profitti e dei loro guadagni per operazioni sostenibili per misurare l'impatto di sostenibilità di quella quota che loro poi dichiarano vanno a dichiarare nelle dichiarazioni non finanziarie nei bilanci di sostenibilità è un mondo che ancora non esiste che va costruito che sono normative molto molto semplici però con un escamotage del genere si potrebbe realmente aiutare banalmente dei giovani a creare all'interno di un antico borgo un connubio tra un'attività turistica una scuola musicale un centro di teatro un centro digitale come il nostro dove poi vengono fatti dei festival che possono andare in presenza e possono andare in streaming e avere una visibilità proprio a livello internazionale e con una raccolta inequiti si raccolgono davvero dei budget importanti e questo è un tema che secondo me merita l'attenzione anzi meriterebbe proprio di farci su un convegno solo su questo tema grazie Rosa Silvia puoi farci un esempio concreto di un'istituzione che si è valso di questo strumento e ha avuto successo o meno non dobbiamo raccontare solo le cose belle io dico che dalle strumenti esperienze negative puoi prendere il tuo inizio per il prossimo progetto certo allora non c'è nel senso che ad oggi le istituzioni hanno sempre sostenuto operazioni di crowdfunding civico ho visto che voi avete anche Angelo Rindone tra gli ospiti Produzioni dal Basso è il più grande esempio che c'è per cui si tratta solitamente di bandi che partono dalla comunità europea io parlo di territorio perché questo è il mio tema in cui vengono aperti dei progetti su alcune aree della città i cittadini solitamente appoggiati da studi di architettura o da tecnici competenti presentano un progetto questo progetto viene selezionato tra altri a quel punto parte una raccolta di crowdfunding che però è a tutti gli effetti civile cioè è in donazione i cittadini donano non entrano come soci nel progetto la società quindi il comune in questo caso valida questa operazione in tre modi primo modo autorizza questo intervento a livello urbanistico che magari era un pochino fuori dagli schemi o dalle volumetrie o da quello che sarebbe concesso a livello di autorizzazione in secondo modo chiude il budget per cui eroga i fondi che servono a chiudere la necessità per realizzare questo progetto rispetto a quanto è stato raccolto attraverso la raccolta di crowdfunding e in terzo modo dà visibilità quindi dà visibilità con la sua presenza valida al progetto e permette una crescita è un win-win è un vantaggio per tutti immaginiamo se questo potesse avvenire in equiti perché stiamo parlando di normative veramente molto recenti e di sperimentazioni che vengono fatte noi partiremo lo sai con la nostra piattaforma di crowdfunding Reanima sta per real estate con l'anima ma non siamo ancora partiti siamo in back office in attesa proprio perché anche per il notaio è complicato creare questi aumenti di capitale con una valenza sociale perché sono forme nuove non sono forme business bisogna parlare di questo e far capire la cultura di questi progetti però noi partiremo su questo quindi immaginiamo delle raccolte di crowdfunding civico che possano andare in equiti cioè per quel determinato progetto di riqualificazione di quel quartiere o di quell'immobile viene creata un'impresa sociale quindi una SRL a valenza sociale in cui vengono coinvolti quelli che normalmente sarebbero degli sponsor quelli che donano quindi innanzitutto questo sponsor anche grosso entra se per una parte minima o grande in questo progetto in questa società quindi è tuo socio quindi ha come biglietto da visita il fatto di essere socio di questo dopodiché segue l'iter di questo progetto quindi non mi limito a sponsorizzare uno striscione su un torneo di volley ma io seguirò che nel tempo ogni anno venga rifatto questo torneo di volley e che i miei soldi vengano utilizzati effettivamente per quello scopo perché io divento socio e oltretutto ho delle vantaggi di detrazioni fiscali importanti di cui è già stato parlato e redigo le mie dichiarazioni non finanziarie e i miei bilanci di sostenibilità quindi assolvo se sono una corporate grossa a questo obbligo se invece sono una società piccola ce l'ho comunque come biglietto da visita inizio a creare questa cultura che qualunque impresa dalla più grande alla più piccola non debba fare solo un bilancio con dei numeri economici ma anche un bilancio un po' come ci sono quelle piattaforme che fanno la misurazione del footprint di CO2 per cui pianti gli alberi per compensare quello che tu hai consumato come CO2 immaginiamo che in un futuro il crowdfunding possa essere un veicolo per creare questa cultura che tutte le imprese possano investire qualche cosa non solo per avere un profitto come le piattaforme di real estate che funzionano alla grande perché le piattaforme di real estate profit tipo Wallians Concrete ma ce ne sono tantissime inequiti hanno una exit con un successo del 100% proprio perché io investo non in una fintech ma in un progetto in cui sottostante c'è un immobile quindi in realtà posso magari non avere quella ROI che mi è promessa ma non rischio di perdere niente dietro c'è il mattone l'italiano è molto concreto ha molto questa cultura del mattone noi siamo i più grossi investitori su questo tema e quindi cerchiamo di portare questo tema del mattone in quello che è l'impresa sociale in quello che è la trasformazione dell'esistente la trasformazione del territorio Scusami un attimo Silvia se ti interrompo ma perché il tempo adesso sta correndo c'è un'altra domanda Stefania ci chiede o meglio ti chiede i patti di collaborazione condivisa il progetto Labus il progetto Labus ho visto adesso su internet è un progetto di Roma che è il laboratorio per la sussidiarietà dove appunto seguono un po' tutto ciò che tu hai enunciato in questa presentazione di girare i luoghi comuni cooperativi di comunità lei ci chiede prevedono i patti di collaborazione condivisa prevedono anche azioni di crowdfunding se sì può fare degli esempi allora premesso che io non sono un'esperta di patti di collaborazione condivisa ma più di un tema legato semmai ai PPP partecipazione pubblico privato la cosa che posso sottolineare è questa crowdfunding civico quindi in donation reward lo possono fare tutti quindi sicuramente se c'è un patto di collaborazione condivisa deve essere un soggetto proponente che è quello che si fa carico di essere il soggetto principale che porta avanti la campagna di crowdfunding ma sicuramente sì per ragionare in equity deve esserci una società costituita che a tutti gli effetti è una SRL e una SPA poi è una SRL con un che è un'impresa sociale quindi il cui scopo ultimo è portare avanti ad esempio queste attività dei patti condivisi chiaramente ci sono ci serve il supporto di un avvocato per definire quello che è l'oggetto sociale corretto di una società veicolo di questo genere e non è una cosa che risolviamo noi in pochi minuti però la risposta è assolutamente sì si può fare bene tra l'altro ricordo che ieri pure ce n'ha parlato Alberto Giusti nel suo intervento con con l'Italizzi di SAFE che comunque ci sono c'è la possibilità anche delle spin off universitarie che comunque sono delle organizzazioni con un aspetto istituzionale possono avvelersi di questi strumenti per cui si deve assolutamente analizzare il contesto dove si vuole realizzare l'equity e poi creare una corrispondenza con la normativa che appunto vigila sull'utilizzo di questo strumento che soprattutto vigila sugli investitori che ricordiamoci sempre che l'equity è un ottimo strumento ma investiamo dei soldi e quei soldi potrebbero non ritornare indietro perché è appunto una scommessa certo però se posso su questo quando io faccio una donazione i soldi non tornano indietro mai invece in equity se lo stesso progetto viene gestito in equity io ho la possibilità di seguire l'iter di quel progetto nel tempo di essere coinvolto in misura maggiore o minore e c'è la possibilità che i miei soldi portino se anche pur piccolissimo un profitto esatto Silvia è un modo come dire di riflettere di donare in modo diverso si esatto si dona in modo diverso grazie grazie Rosa Silvia Cortese grazie se comunque con Silvia abbiamo in progetto diversi momenti di riflessione di chiacchiere su Clubhouse per cui se c'è qualcuno che ci vuole seguire nei prossimi giorni pianificheremo qualche appuntamento molto volentieri grazie a tutti e complimenti ancora per questo progetto meraviglioso grazie grazie